E bentornati ragazzi sono sempre io Felix e anche oggi andiamo a vedere come guadagnare soldi gratuiti su Paypal come guadagnare buoni Amazon e buoni Zalando iTunes con un'unica applicazione che ci fa guadagnare i soldi ci fa guadagnare tutte queste cose qui andando a giocare veniamo pagati praticamente ogni minuto ogni secondo giocando ai giochi presenti all'interno di questa applicazione qui intanto stiamo vedendo la prova di pagamento questa applicazione è stata fatta da AppLike si attaccano tutte a quella famosa applicazione che non esiste più nel Play Store ragazzi non è più esistente AppLike ma ha creato altre applicazioni simbili come questa qua chiamata AppFlame vi lascerò il link qui so di descrizione alla quale vi darà un bonus pensate di 2555 monete e il prelievo minimo è di 2999 monete adesso andiamo a vedere basterà andare nei pagamenti come vedete un prelievo minimo di soli 30 centesimi di euro questa applicazione qui è seria e pagante avete appena visto la prova di pagamento di 5 euro prima ci vorranno poi 47.000 monete e come vedete se vi registrate dal link qui sotto in descrizione avrete un bonus di 2555 monete basterà poi andare a giocare all'applicazione che chiede di scaricare AppFlame come vedete qua c'è la prima 31 monete al minuto ci darà questa applicazione qui la scarichiamo poi ritorniamo su AppFlame andiamo qui a sinistra andiamo sulle mie app qui nelle mie app andiamo ad accedere all'applicazione che abbiamo scaricato e da lì in poi mentre giochiamo andiamo a guadagnare queste monete tutte le monete vanno in basso come vedete io attualmente ho 98.380 monete ragazzi posso andare a scambiare dopo le monete in pagamenti e qui ragazzi si parte come vi ho detto da un prelievo minimo di 30 centesimi di euro ok il bonus iniziale è già di 2555 monete e come vedete va in base poi alle monete che abbiamo io posso andare a prelevare avendo 98.000 monete fino a 10 euro su Paypal ragazzi come vedete ci sono anche i buoni Amazon Italia si parte da un prelievo minimo di 2 euro e 50 centesimi ok fino ad arrivare a 20 euro c'è iTunes e c'è anche Zalando Italia prelievo minimo 5 euro fino ad un massimo di 10 euro tutto in un'unica applicazione chiamata AppFlame vi lascerò il link qui sotto in descrizione del video vi ho fatto vedere anche già la prova di pagamento di 5 euro ragazzi che ho ricevuto mi fa anche le congratulazioni per aver usato la loro applicazione sempre seria e pagante è una delle più vecchie AppFlame dopo AppLike che ci fa guadagnare queste monete andando a giocare sui giochi all'interno dell'applicazione ogni gioco ci dà delle monete al minuto ragazzi tutte le monete vanno poi in basso nel nostro balance dopo possiamo andare a ritirare le monete in alto a sinistra nei pagamenti per ricevere o soldi gratuiti su Paypal o buoni Amazon, iTunes o Zalando ragazzi ebbene ragazzi per i video è tutto mi raccomando iscrivetevi al canale di Felix attivate la campanellina se volete rimanere aggiornati su queste applicazioni qui serie e paganti che fanno guadagnare soldi gratuiti e fanno guadagnare i buoni regalo ciao da Felix